Poi anche la prima opportunità vera di vincere un campionato del mondo con una macchina competitiva al massimo livello di competizione e lì anche ho preso l'opportunità e l'ho fatta. Questa forse è stata la conquista più grande per me, più importante perché ho capito che in condizioni uguali, a parità con il migliore, sono in grado di farlo. Qualche volta mi battono, però alla fine riesco a vincere. E questa è la certezza che credo ogni persona cerca nella vita, che ha qualsiasi attività che è nella competizione, sia sportiva o nel business come sia, che è in condizione similare perché hai più voglia, perché ci credi di più, perché sei in grado di concentrare di più, sei in grado di andare fino al numero uno. E questo sono riuscito a fare in questo tempo, più di una volta. Questa è forse la cosa più importante.